Nuovo scontro in consiglio comunale legato al rigassificatore di Punta Marina. Per l'Ista per Ravena la costruzione dell'impianto a terra che sta procedendo in questi giorni sarebbe viziata dalla mancanza di un nulla osta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Per l'amministrazione comunale tutto è invece stato chiarito in conferenza dei servizi. Inizialmente, infatti, l'impianto a terra del rigassificatore, 16.000 metri quadrati, doveva sorgere poco lontano dal villaggio Teodorico. Il comune e un privato, tuttavia, durante la conferenza dei servizi, fecero notare per quella collocazione problematiche di sicurezza ambientali e paesaggistiche una riduzione del valore degli immobili. Per questo motivo, Snam decise di riposizionare l'impianto 700 metri al sud-ovest rispetto alla posizione originaria, più lontano dalla viabilità principale, dalle abitazioni e con un bosco a mitigare visivamente la presenza dello stabilimento, una variazione ritenuta dall'amministrazione comunale migliorativa. In una successiva conferenza dei servizi alla presentazione del progetto modificato, nessun ente espresse parere contrarie alla costruzione dell'impianto, nemmeno il rappresentante unico delle amministrazioni statali, presente come riferimento dei vari ministeri coinvolti. Eppure, ha fatto notare il capogruppo di lista per Ravenna, Alvarancisi, il Consiglio Comunale Ravennate fu chiamato ad esprimere la propria opinione sulla modifica al progetto senza essere a conoscenza della mancanza di un nulla osta del Ministero. Se i consiglieri comunali lo avessero saputo, avrebbero potuto votare in maniera diversa. L'assessore del Conte ha però evidenziato come il nulla osta al centro della discussione e in realtà non ha mai avuto un reale impatto legato alla costruzione del rigassificatore, poiché è incentrato su possibili problemi di interferenza fra le tubazioni a terra dell'impianto e la rete di comunicazione elettronica. A fronte di possibili interferenze, ha sottolineato l'assessore, in ogni caso eventuali modifiche non sarebbero dovute essere state a carico del rigassificatore, ma a carico della rete di comunicazione elettronica. Una spiegazione che però, secondo Ancisi, non risolve il problema burocratico. Quando il Consiglio Comunale ha espresso il proprio voto, lo ha fatto per un documento che non godeva del via libera del Ministero. Non sarà però la burocrazia l'unico fronte di scontro sul rigassificatore. Stanno infatti iniziando a preoccupare i fenomeni di trombadario o di funnel che stanno interessando la costa ravennata in questo periodo. Dal 2000 ad oggi se ne sono presentati, secondo i meteorologi, sei all'anno. L'Ista per Ravenna, durante quest'estate, ha voluto riprendere alcune osservazioni a suo tempo presentate dall'Associazione Ambientaliste. Nel caso uno di questi eventi colpisca l'impianto a mare del rigassificatore, quali sarebbero i rischi di esplosione o di rilascio di volume di gas? Quali i rischi per le infrastrutture, per il porto e per la costa? Quali i rischi per le infrastrutture, per la costa?